Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parliamo di Diablo 4 e facciamo una bella guida sulla mia build da Necromante Minion, che tra parentesi è probabilmente una delle build più forti in questa stagione 4 di Diablo 4, in questo momento specifico. Come vedete qui io ho già due personaggi al 100, ho portato la mia Sorcerer, che ha una build decisamente fuori meta e che non ha performato molto bene nel pit, ma ve la farò vedere magari prossimamente anche questa, perché è una build meteore e muri di fuoco. E poi c'è ovviamente la Necromante. Necromante è veramente molto bella, che è veramente anche molto molto forte. Il Necro in questa stagione, in questo nuovo aggiornamento comunque di Diablo 4, in questa nuova patch ultima che ha stravolto tutto, è stato aumentato parecchio di potenza, in particolare i Minion. I Minion adesso, rispetto a come era stato quasi da un anno a questa parte, prendono adesso tutte le statistiche nostre al 100%, ogni singolo Minion. Questo riguarda sia la vita, sia i danni, colpo critico, eccetera eccetera, attack speed, qualsiasi cosa. A questo viene aggiunto ovviamente anche tutto il loro potenziamento tramite skill tree, paragon point, equipaggiamento e tutto quanto. Quindi questo fa sì che adesso i Minion facciano una marea di danni. Come ho fatto con altre guide su Diablo 4 per delle mie stesse build? Io fondamentalmente quando vi porto una build è perché l'ho giocata, ok? Non vado a vedere le build semplicemente che ci sono su internet. Quelle poche build che vi ho fatto vedere è perché ci avevo giocato parecchie ore. Quindi faremmo un video abbastanza approfondito, ok? Quindi vi andrò a spiegare per filo e per segno gli oggetti, che tipologia di oggetti, i paragon point, anche se quelli fondamentalmente sono presi da una guida che poi vi linkerò, e in particolare poi come si gioca. Quindi voglio che voi capiate esattamente il senso di tutto. In questo momento il personaggio è livello 100, ma ho fatto il 100 in realtà da poco tempo, ed è così forte che in realtà già dal livello penso 91-92, quando ancora non avevo neanche un masterwork fatto, per quanto adesso comunque ci sia solamente un giro dei primi quattro livelli, insomma, quindi quelli che si fanno con i materiali più bassi. Non è neanche così pompata, ecco. Già a livello tipo 90-91 riusciva a pulire i pit anche a livello 40-50 e fare praticamente anche i Nightmare Dungeon quasi tutti, insomma, anche quelli lì lo 199. Stiamo parlando di questa potenza di fuoco. Se pensate che il Necrominion sia super facile e super noioso, io vi dico che è vero, nella maggior parte magari della vostra esperienza da leveling, effettivamente siete così forti e sbilanciati per certi versi, che non sembra particolarmente divertente. O meglio, per alcuni potrebbe essere poco divertente perché si fanno poche cose, sono così forti che potreste stare quasi FK nella fase di leveling. Tant'è che non andremo a vedere particolarmente come buildare per il leveling, ma solo per l'endgame, perché veramente potreste anche mettere i punti a caso nel leveling, basta che rimettete ovviamente con un senso. Il punto è che quando si arriva a fare un contenuto, diciamo, più interessante, che in particolare vuol dire fare i pit e cercare di scalare i pit, ecco lì, per quanto possa essere molto forte, comunque a un certo punto dovete giocare bene, perché comunque i pit, soprattutto sopra il livello 50, cominciano a fare parecchio danno, i nemici cominciano ad avere parecchia vita e gli affissi negativi, nel senso gli affissi dei nemici, anche dei trash mob, cominciano ad essere 3-4 e comunque la cosa è abbastanza pericolosa. Quindi comunque tranquilli, che poi diventa comunque divertente da giocare, perché dovete fare una certa rotazione delle skill, se no vi scoppiano lo stesso. Ma perché è così forte? Prima ancora di andare a vedere cose specifiche. È così forte perché riusciamo a trasmettere ai minion, appunto, tutte le nostre statistiche e ad avere statistiche molto alte. Inoltre, questa build è particolarmente semplice da fare perché, come vedete, forse, non ho neanche un unico. Questa build non ha bisogno di unici, sono tutti leggendari. E adesso, col fatto che i leggendari hanno solamente 3 affissi e poi 2 ce le aggiungiamo noi, è abbastanza semplice. L'unica cosa particolarmente rognosa che dovete trovare, e magari lì dovete fare molti roll, spendere molti gold, appunto, per il reroll della statistica, sono su due pezzi, perché sono molto rari, ovvero dominio dei golem sul corpetto, e comandante infernale sull'amuleto. Ok? Queste sono abbastanza rare, per non dire molto rare, in particolare comandante infernale perché l'amuleto ha una marea di affissi che possono esserci sull'amuleto stesso, quindi è un casino trovarli. Ma sono cruciali. Sono cruciali perché sono due skill, che sono qua sotto in fondo, sono due passive, che sono delle skill moltiplicative, quindi questo aumenta i danni e vita del tuo golem del 125%, ma in realtà è 25% moltiplicativo per punto, quindi di base voi avete 3 punti, però potete aggiungerne 2 o addirittura 3 se ovviamente esce come affisso maggiorato, e poi con il masterwork, se avete culo, può aumentare ancora e ancora se esce qualche critico, e questo è tantissimo danno in più. Stessa cosa per comandante infernale, 75% moltiplicativo, però con 5 punti, quindi in realtà è un 15% moltiplicativo per punto, questo per tutti i servitori, anche se dobbiamo essere vicini ai minion per attivare questa passiva. Quindi queste sono molto cruciali e sono le cose, le uniche cose difficili forse, da beccare in questa build, ma adesso poi andiamo a vedere piano piano. Comunque è molto forte per un semplice motivo appunto, che tutti i minion prendono tutte le nostre statistiche, e in questa build noi riusciamo ad avere tantissimo critico a strike e tantissimo danno critico, quindi praticamente i nostri minion continuano a fare critici in continuazione, ma in particolare è tutto basato sul golem. Il nostro golem, qua vedete 2500 danni in più, ma c'è chi arriva anche a 3000, onestamente ho visto, perché magari con il masterwork e buoni rolls arriva anche a 3000, quindi quando fate il colpo praticamente del golem, che decidete voi quando farlo perché è una skill attiva, questo colpo fa una quantità smisurata di danni, perché si prende tutti i moltiplicatori possibili, immaginabili, e stiamo parlando di un colpo che fa milioni e milioni di danni. Difficile anche vedere perché i danni sui minion sono microscopici, comunque fa un casino di danno, ed è un danno ad aria, tra l'altro, piccolare intorno a lui. Quindi tutto il senso di questa build è noi rimanere in vita, mandare avanti i minion, usare i tentacoli cadaverici che fondamentalmente ci permettono di stordire tutti i nemici e portare in un unico punto, e una volta che sono tutti lì in un unico punto, boom, pugno del golem, tutti morti. Più o meno questo è il senso. Come detto, nella parte di leveling manco lo fate questo tantissimo perché scoppiano di base, tutto scoppia di base facilmente, perché avete molti danni. Quando invece le cose diventano difficili dovete stare attenti a non morire e fare questi praticamente pull dentro col tentacoli, bam, pugno del golem. Tutto qua in teoria, però bisogna stare attenti. Ma adesso andiamo a vedere prima le skill vere e proprie che si vanno a mettere e perché si scelgono queste skill piuttosto che altre. Vi ricordo sempre, vi metterò comunque in descrizione la build che ho preso da Max Roll anche se l'ho modificata, quindi vedrete che ci sono cose leggermente diverse, in particolare ho cambiato proprio anche l'ultimate perché ho preferito rimanere più difensivo. Quella di Max Roll è particolarmente offensiva come build, però se volete scalare i pit dovete essere difensivi perché veramente se no si prendono mazzate fortissime. Quindi si parte con Mietitura che vabbè, sti cazzi, tanto serve solo due punti qua solo per andare avanti. Prenderemo poi Morbo con i suoi potenziamenti, ma semplicemente per avere questo fondamentalmente, ovvero un ulteriore moltiplicativo al 20% quando i nostri minion colpiscono qualcosa che è infettato dal Morbo. Infatti la teniamo a 1 perché non ci interessa il danno, ci interessa solo questo. Quindi Morbo consuma un bel po' di essenza ma appunto ci serve solo per avere questo ulteriore danno in più. Dopodiché prendiamo qua a 3 per avere tutta l'essenza possibile, che non fa mai male. Ovviamente carne martoriata per avere il 12% di probabilità di creare sempre un altro corpo, perché ovviamente i corpi ci servono. I corpi ci servono sia per usare tendris, quindi tentacoli, sia ovviamente per risummonare i minion. E ricordatevi che anche se avete il massimo dei minion disponibili, se usate un cadavere comunque evocate il sacerdote che li cura ma soprattutto gli dà ulteriore danno e attack speed, mi sembra. Comunque li buffa. Quindi i cadavere ci servono sempre. Dopodiché prendiamo ovviamente a 3 dominio dei guerri rischi elettrici, ovviamente. Prendiamo 1 di mietitura per arrivare a 3 di alimentazione mortale per avere un ulteriore 9% moltiplicativo ogni volta che consumiamo un cadavere. Considerate che ogni volta che noi prendiamo un buff di danno va a finire anche i minion, questo è il punto della situazione. Qua prendiamo tutte le passive che ci sono, quindi abbraccio della morte a 3, approccio mortale per avere più velocità di movimento, danni amplificati sulle maledizioni ovviamente, e ovviamente più danni e più vita ai maghi scheletrici. Prendiamo decadimento e prendiamo il suo potenziamento e prendiamo anche decadimento abominevole. Questo ci interessa per svariati motivi. Noi riusciremo a debaffare un'area molto molto grande, tra l'altro, verso l'endgame, quando avremo anche la forgiatura sull'area del decadimento, faremo veramente tantissimo. E ci interessa perché, prima di tutto, ci abbassa il danno che ci fanno, perché tutti i nemici maledetti fanno meno danno, 23,8% di danni. Inoltre sono anche rallentati. Inoltre c'è la possibilità di abbassare il cooldown di un secondo di tutto, e questa è una cosa molto utile, e inoltre poi, vabbè, ogni tanto potrebbero essere anche storditi. Quindi assolutamente decadimento. Dopodiché noi prendiamo tentacoli cadaverici, che è fondamentale perché costantemente noi cerchiamo chiaramente di tenere fermi i nemici e tirarli soprattutto in un unico punto, in modo che poi il golem gli dia il pugno. Quindi prendiamo tentacoli, ci basta uno perché non ci interessa il danno, ci interessa averla. prendiamo il potenziamento e prendiamo ovviamente anche la possibilità di rendere tutti vulnerabili per tre secondi, tutti quelli presi dai tentacoli. Poi prendiamo carpace necrotico, che è molto importante perché ci permette di avere fortificazione. In questa build riusciamo a avere sia fortificazione che scudi per il massimo della nostra vita. Praticamente ci sono momenti in cui abbiamo il triplo della vita che voi vedete. Se abbiamo 30.000 di vita, a un certo punto ne abbiamo 90.000 con fortificazione. Non ce l'abbiamo sempre, però è fondamentale perché rispetto per esempio alla sorca resiste molto di più il necro perché ha fortificazione. Prendiamo questo a due, giusto perché abbiamo la possibilità ogni tanto di fare questo danno da darkness e avere un 10% in più di velocità di movimento, che è fondamentale, avere più velocità di movimento avete sempre meglio. Vi permette di evitare la morte in generale. Dopodiché abbiamo tutte le passive per i minion, quindi abbiamo dominio del golem al massimo, abbiamo leader carismatico al massimo a tre punti, comandante infernale a tre punti. Ecco, nel link che vi darò metterà Max Roll armata dei morti, che sicuramente la potete usare anche per livellare, anzi per livellare probabilmente meglio armata dei morti perché è molto più offensiva. però poi quando andate a fare pit molto alti e cominciate ad avere difese, io ho preferito mettere tempesta d'ossa. Perché tempesta d'ossa? Perché riesce a essere comunque tirata molto spesso perché il cooldown si abbassa abbastanza, fa dei danni comunque per i fatti suoi, ma soprattutto un'ulteriore riduzione dei danni del 15% quando è attiva e la possibilità di aumentare del 20% la probabilità di critico che ovviamente va sui minion, che è tantissimo, un 20% per una cosa che abbiamo quasi sempre attiva, quasi sempre. E infine ovviamente è ditto di Kalan per aumentare comunque l'attack speed dei nostri minion e ci sta. Sui Paragon e l'eccellenza, ragazzi, io ve lo ripeto un'altra volta, vi linko il link perché sennò saremo qui a guardare punto per punto in una follia, quindi eventualmente lo prendete da max roll esattamente tutto il percorso, tutti i glifi e tutto quanto, quindi non parliamo del Paragon perché sennò facciamo notte. Per quanto invece riguarda quali scheletri utilizzare, questo è importante perché noi vogliamo usare, come guerrieri vogliamo usare i mietitori con il primo upgrade, ovvero quello che ci permette di abbassare il cooldown di 3 secondi ogni volta che loro fanno un attacco speciale, fondamentale, perché ci serve abbassare i cooldown, perché ci abbassa il cooldown sia del colpo del golem, sia ovviamente della ultimate, sia dei tentacoli e va bene, e basta così, è fondamentale. Quindi questo prendiamo i mietitori. Invece i maghi scheletrici prendiamo quelli di gelo con gli attacchi che applicano vulnerabilità per 4 secondi. Dato che comunque avremo 5 maghi scheletrici, questo ci permette di avere quasi costantemente sempre vulnerabilità. Il golem invece, quello che fa la maggior parte del danno, sarà il golem del sangue con il suo attacco, il suo secondo upgrade. Quindi quando il golem di sangue si cura con la sua abilità attiva, ti cura anche del 5%. Quando il tuo golem di sangue è in salute, ottieni una riduzione dei danni del 25% e infligge il 50 moltiplicativo di danni aggiuntivi. Questo è il golem da utilizzare e questa è l'abilità da utilizzare col golem. Adesso vediamo l'equipaggiamento e come arriviamo a questi valori, che vabbè, vi ricordo che questa potenza offensiva è un valore un po' del cazzo, un po' così. Non vuol dire niente perché poi cambia a seconda di buff che vanno, vengono, moltiplicativi, eccetera, eccetera. Dunque è relativamente utile capire questo valore. L'importante è comunque avere almeno 9300 qualcosa di armatura per avere 85% di riduzione dei danni, che è il cap per tutti i mob possibili e immaginabili di livello e ovviamente più vita avete meglio. Come detto non c'è bisogno di avere nessun unico. Ora rispetto anche alla guida che il link vi ho messo, Max Roll usa lo spadone a due mani, io invece sto usando una spada, una mano e un focus. Ora qua secondo me è opinabile, cioè per ora sto facendo così, però sto cercando con uno spadone molto buono per provare l'alternativa. Che cosa cambierebbe? Soprattutto perché le spade? Le spade si fa perché come loro bonus in nato hanno danni critici, ok? Aumentano il danno critico. Ovviamente la spada ha una mano di meno, 17,5, quella a due mani il doppio. Dopodiché il vantaggio di avere una due mani ovviamente è che questo specifico potere leggendario sarebbe raddoppiato e quindi si avrebbe addirittura un 90% di attack speed a un certo punto dei minion. Questo è molto buono, però è anche vero che per come lo sto giocando io non mi dispiace avere la metà dei bonus, però avere anche il focus e quindi la possibilità di avere comunque un potere leggendario in più, offensivo, a mia scelta e soprattutto il focus mi dà di base tempo di recupero ridotto del 7% perché tutti i focus lo hanno e la possibilità in realtà di averlo nuovamente tra gli affissi, anche se in questo caso non l'ho trovato, però ci starebbe averlo e quindi avere ulteriore tempo di recupero ridotto perché più abbassati i cooldown più questa build è forte perché potreste tenere quasi costantemente su tempesta d'ossa e avere in continuazione gli attacchi del golem, ok? Quindi in realtà tempo di recupero è molto importante. Quindi ci sta secondo me usare una due mani, spada oppure anche così a una mano per avere il focus. Per quanto riguarda le statistiche, io ho più o meno seguito esattamente quello che c'è scritto su max roll come affissi, ci sono poche cose che divergono ed è... e sono riuscito anche a trovare più o meno tutto quello che serve. Quindi più o meno è molto adderente a quello che vedete su max roll. Comunque andiamo a vedere più o meno cosa serve. Allora, nella testa io ho messo... ho fatto ovviamente dei cambiamenti perché avendo messo tempesta d'ossa ho messo questo potere leggendario che secondo me è molto molto forte perché ci permette appunto di avere una barriera costante quando colpiamo i nemici con tempesta d'ossa. Una barriera che praticamente pareggia i nostri punti vita massimi. Come statistiche voi dovete privilegiare ovviamente tempo di recupero ridotto. Vabbè, io qua ho sculato, ho beccato l'affisso maggiorato proprio di tempo di recupero, però tendenzialmente è quello che volete. Cioè fate selezione, trovate tempo di recupero nell'elmetto. E poi ovviamente intelligenza e vita massima. Vedrete che quasi in tutti i pezzi c'è intelligenza e vita massima. Perché vi servono danni, vi serve le vita. Come forgiatura appunto armatura totale per avere sempre più armatura e cercare di arrivare al cap. E possibilmente l'aumento della dimensione del decadimento. In questo modo avete un'area ancora più grande della maldizia. Per il corpetto la statistica fondamentale appunto è dominio dei golem, che è tipo l'unico pezzo in cui può esserci questa statistica. E vi aumenta, come detto prima all'inizio del video, in maniera moltiplicativa il danno dei golem di tanto. Quindi è veramente molto importante ed è rara trovarla, però è fondamentale. E poi intelligenza e vita massima. Come forgiatura vita massima e colpo fortunato su congelamento. Che è utile perché questo lo metteremo almeno in un paio di pezzi in modo da poter proccare anche congelamento. Per i guanti ovviamente sempre intelligenza e vita massima. In questo caso ci aggiungiamo probabilità di critico. In molti pezzi ci sarà probabilità di critico. In questo pezzo possiamo mettere danni da golem nella forgiatura da poter provare a mettere e lo vogliamo. Vogliamo danni da golem in ogni singolo pezzo in cui si può mettere danni da golem. Dopodiché dimensione del decadimento. E va bene, è uscito questo, ce lo siamo tenuti, va bene lo stesso. Per i pantaloni, intelligenza e vita massima ovviamente. E qui cerchiamo di beccare armatura, perché ci serve almeno un pezzo che abbia proprio armatura tra gli affissi per poter raggiungere il cap. Anche se comunque il necromante ha tanti modi per aumentare l'armor, però vabbè. Dopodiché dimensione di tentacoli cadaverici e vita massima come forgiatura. Ah mi sono scordato di leggervi il potere leggendario, vabbè ma forse l'avete letto. Qua ci mettiamo quello che ci aumenta di 2 il numero massimo degli scheletri, sia maghi che guerrieri. Nei guanti mettiamo i tuoi servitori ottengono danni aumentati mentre sono vivi, fino al 40% moltiplicativo. Nei pantaloni mettiamo il tuolo golem ha una probabilità del 12% di ridurre il suo tempo attivo di 2 secondi e una probabilità del 6% di far apparire un cadavere. Le scarpette sono molto importanti. Le scarpette sono molto importanti perché dovete assolutamente avere una scarpetta che ha almeno multiple cariche, ok? È fondamentale. perché infonderemo il potere dei vampiri che ci permette di diventare vampiro e diventare inarrestabile per due secondi e mezzo di far danno e quindi ci serve assolutamente avere multiple cariche sugli stivali. È importante. Dopodiché intelligenza vita massima, velocità di movimento, colpo fortumato sul concilialamento e velocità di movimento nuovamente. Per quanto riguarda l'amuleto è appunto importantissimo trovare Comandante Infernale che è fottutamente raro, ma veramente raro e in teoria vorremmo anche tempo di recupero ridotto, però è molto difficile avere entrambe queste cose perché pure il tempo di recupero ridotto sull'amuleto è estremamente raro. Quindi se riuscite a trovare un amuleto sia con Comandante Infernale che cooldown reduction avete fatto jackpot. Molto più facile trovare critico o vabbè vita massima, intelligenza eccetera. Comunque, io sono messo così. Idealmente sarebbe meglio avere una vita massima in meno e un cooldown reduction in più. Dopodiché per la forgiatura danni golem e riduzione tempi di recupero dell'ultimate. Come infusione per l'amuleto che è il 50% più forte come voi saprete, aumenta la riduzione dei danni e quella dei tuoi servitori che max rollato arriva a 38%. Gli anelli sono molto offensivi, in questo caso c'è intelligenza, vita massima e critico però probabilmente qua sarebbe meglio avere vita massima, probabilità di critico e danno critico. In teoria sarebbe meglio. Dopodiché riduzione del tempo di recupero delle ultra e danni da golem. A questo punto io ho utilizzato anche il potere leggendario che ci dà un 30% moltiplicativo in realtà per metà del tempo, però fa il suo corso, quindi va bene. Per l'altro anello, praticamente i due anelli hanno le stesse statistiche, in teoria dovreste avere più o meno uguali. Qua io un po' le statistiche sono un po' scazzate, perché anche qui in teoria dovrei mettere al posto di danni, danni critici, ok? In realtà potrei anche rerollarlo, però sto giocando così. Comunque, probabilità di critico, danni critici, intelligenza. Riduzione di tempo di recupero, ultra, danni golem, uguale. In questo caso io sto provando questa cosa, dato che è uno slot in più, dato che non sto usando le due mani, e sto provando a usare infliggi 25% moltiplicativo quando hai barriera, perché comunque utilizzando spesso, molto spesso, tempesta d'ossa ho spesso la barriera e quindi essendo un moltiplicativo del 25% comunque è molto buono. Io sto facendo così. Dopodiché nell'arma abbiamo intelligenza e vita massima danni critici, danni dal golem, e poi io qua c'ho durata, effetto scheletrico, sacerdote, ma semplicemente perché ho finito la tempra è rimasto questo. In teoria dovreste mettere velocità, attacco di velocità dei minion. Come infusione invece è quella dell'attack speed, quindi ogni volta che uno dei tuoi servitori avvocati danneggi il nemico, la sua velocità attacco aumenta del 15% fino al 45%. Chiaramente se usate uno spadone a due mani, usate sempre questo e sarà raddoppiato l'effetto. Gemma, verde, danni critici. Focus, perché io uso il focus. In questo caso ho intelligenza e vita massima probabilità di critico, ma sarebbe meglio avere anche cooldown, redaction. Possibilmente forse al posto di intelligenza, perché comunque già l'intelligenza ne abbiamo un botto. In questo caso ci sono le cose giuste come forgiatura, velocità d'attacco servitori, danni golem. E ovviamente, questo è importante, se non lo mettete qua comunque mettetelo nell'anello. Se usate una due mani magari non usate questa dello scudo, usate quello dei tentacoli. Quello dei tentacoli ci deve stare. Che ottiene il 18%, ma fino al 25% se fosse un max roll, di probabilità di critico aggiunta per 6 secondi e infligge il 36% moltiplicativo di danni critici ai nemici dei tentacoli. E può essere addirittura il 50%. Questo è molto molto forte. Ultima cosa che vorrei puntualizzare è la questione delle pozioni. Ora, questa pozione è palesemente mezza rotta in questa stagione. E parlo solo di stagione perché questa pozione non c'è nel Reame Eterno. E permette di creare questi dardi sacri che fanno un tot di danno che non si sa quanto è perché non c'è scritto quando qualcosa muore. Ecco, è forte per tutte le classi, ma col Necromante crea delle interazioni totalmente buggate. Tant'è che, forse avete visto, ne ho parlato anche in un altro video, arrivano a farsi miliardi di danni. Non so perché, non so per come, forse per i moltiplicatori sul golem, eccetera eccetera. Comunque, miliardi di danni. Cioè, one-shotare tipo i boss, i uber boss. Quindi, io ve lo dico. Se voi usate questa pozione, state un po' barando, tra virgolette. Nel senso che vi crea certamente dei danni molto, molto superiori a quelli che dovreste fare. Io vi assicuro che, tranquillamente, usando altre pozioni, potete pulire di tutto e di più. Io per adesso sono arrivato al 70, mi sembra, di pit, pulito senza la pozione dei dart, ok? Quindi in maniera, diciamo, tra virgolette onesta. Però, ovviamente. Poi, fate un po' come vi pare, però, io vi dico che, ok, 67. Sono arrivato a 67 con pozioni normalissime. Però, vedrete che c'è una differenza abissale tra usare questa pozione e altre pozioni. Quindi questa è totalmente fuori di testa. Ma, probabilmente, appunto, perché triggera cose che non dovrebbe triggerare. Un po' buggatelle. Poi, fate voi. E, insomma, ragazzi, questo è quanto. Quindi, questa era la mia guida. Credo di essere stato molto, molto dettagliato. Se avete dei dubbi, comunque, scrivetemelo sotto nei commenti e cercherò di rispondervi. Noi ci vediamo, comunque, prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione e per il supporto sempre. E... Alla prossima! Salutoni! Ciao ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.